Lifetime in... Sapete quanto ci ho lavorato? È un privilegio solo essere a bordo Questa è meglio di una nave da crociera di lusso Non farci caso, sai quanto ti amo Ed eccoci qua ragazzi Seduto ragazzo, atterriamo Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gimer che vi parla E siamo tornati su Star Wars Jedi Fallen Order Si mette male I nostri soliti trucchetti sono inutili contro le loro difese Posso fare qualcosa? Cos'hai in mente? Un rituale Nasconderà la nave Spero Un rituale? Ci sa fare con queste cose Un attimo, fermi tutti E di che cosa hai bisogno per il tuo rituale? Di un sacrificio Un tuo braccio dovrebbe bastare Che cosa? Stavo scherzando E ora seguitemi Sorelle mie Madre Madre Donatemi la vostra forza Sorelle mie Madre Donatemi la vostra forza È incredibile È incredibile, funziona Quante possibilità abbiamo Io punto su di te, ragazzo Su, andiamo Una volta dentro mi occuperò delle loro difese Poi sabuterò i sensori Così l'amantis può recuperarci Tu cerca l'holocron Non è meglio restare uniti? Sento il richiamo Sono in gioco le vite di quei bambini Qualunque cosa accada Qualunque cosa vedrai Non preoccuparti per me Prendi l'holocron e vatti Siamo quasi alla fortezza Andiamo Alla prossima No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Siamo nelle fasi finali, raga. Dovevamo infiltrarci nella base dell'inquisizione dell'impero, a quanto pare. E ci siamo buttati in acqua, non so quanto sarà lungo sto pezzo. Ma come potete vedere ho trovato un altro spin, steam, e siamo arrivati a quota 6, perché mi sono fatto un po' un viaggio off screen su Zeffo, ma non l'ho ancora finita di esplorare. Ammazza, oh, quanto è alta sta torre? Dovremmo esserci sia noi che Sir. Dovremmo entrare da lì, suppongo. Non c'è dubbio che dovremmo andare lungo i tubi. Ammazza. Mi sono infiltrato. Arrivato. Arrivato. Ecco tutto. Portellone otto libero. Ascolta l'acqua che... Avvicinate... 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 Toglietemi di mezzo... Calci, sai? Sì. Che bello sentirti. Ho trovato l'Holocron. Ti mando la posizione. Mi ha raggiunto. Ci muoviamo. L'hai già trovato? Andiamo, BD. Chiusa. Puoi fare qualcosa? Grazie. Te ne pentirai. Hai vinto. Il traggio è l'umilizzato. È detto. Non riesco a colpirlo. Versaggio in full. Non riesco a colpirlo. Non riesco a colpirlo. Ti prenderemo. Attaccatelo, presto. Te ne farò più di più. Vai a... Vengono noi due. Il nome dell'imperatore. Uccidete. Beh. Godardo. Troppo lento. Solo i più forti sopravvivono. Appunto. Aià. Non batti da uomo. Ok, fatti fuori tutti questi soldati Mamma mia quel cavaliere quanto era tosto E chi scappa da voi? Sorpresotto Che barba sti qua ho Mi beccano di più Voglio gustarmi questo scuadro Questo non era mai soggetto No Oh Dove l'impero ha creato gli inquisitori Dove hanno torturato Sir E portato Trill al lato oscuro Luttiamolo giù, PD1 Non lui Devo solo mirare meglio Ti ho preso Ah Funzionamento controllato Enorme danneggiamento iniziato Insufficienza rilevatori Ho ripulito l'area ma l'impero mi ha chiuso dentro Idee? Cal Cerca una sala controllo Ho un piano Credo di esserci dentro Non arrivo fino a lì il cavo Maledizio Dove vai, BD? Vista notevole Ok Oh, visto BD? Quello sì che è servito Controlliamo E in modo che parte devo andare però Ho disabilitato gli scudi esterni della fortezza Allaga la base e nuota fino alla zona centrale Gran bel piano Ci vediamo dentro Buona fortuna Capito Andiamo BD Ok Questa parte sembra fragile Pronto a nuotare BD? Reggiti Ok Dovevo fare così Ottimo E nuotiamo E nuotiamo Qua la porta è chiusa Perfetto Allora devo andare di qua Aveva detto che dovevo nuotare Ma non immaginavo adesso Anche consultarmi la mappa Per vedere se sto andando giusto Ma penso di sì Perché solo da una parte possiamo andare qua Le porte chiusa Stazione sommersa Analisi Queste tubature Dai 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 Che dobbiamo Forse mi sa che qui affronteremo Trilla per l'ultima volta Di qua Ho visto delle scale Oh finalmente Cos'hai scoperto? Un save Andiamo Mi avvicino Mi avvicino Rimani troppo indietro Però di lì si va da qualche parte Aspetta però Faccio qualcosa? No, non mi pare Sì Viglia alla palestra del Tempio Jedi La cupa Corrotta Non può competere O senza arma aumentata Il bersaglio è molto agile Non sei alla nostra attenzione Perché siete in due Ok Ne hanno fatto? Ok Porta chiusa Ti presento BD1 Il Jedi è nella sala degli interrogatori Attaccare il genito Vediamo In quanti minchia sono Questa non riesce a saltare Sì certo Non riesco a colpirlo Non mi fermerai Adesso Il dolore non mi fermerà Damnato Ma io ero imparata Dai Non dovete cadere Toccherà anche a me Dai Oh invece sì Dai ma anche tu Spara Oh invece Toccherà anche Non mi ucciderai! Quello è l'ultimo. Kull sono vicino a te, dietro una porta anti-blaster. Riesci ad aprirla? Ci sono! È stato... impressionante. Come ti senti? Non pensare a me, c'è un lavoro da fare. Ma... fare a pezzi questo posto è piacevole. Ci tenevano imprigionati qui. Se solo ci fosse qualcuno da salvare. Mi dispiace che siamo tornati qui. Anche a me. Ma non avevamo scelta, no? Capisco. Andiamo avanti. Sì. Facciamola finita. Qualche traccia di trilla? No. Ancora no. L'holocron è nella camera degli interrogatori. Il posto più sicuro dell'intera fortezza. Aprirò una via fino all'holocron. Arriva all'holocron. Creerò un diversivo e ti raggiungerò appena posso. Wow. Ketchupidi! Mmmh. Wow. Mannaggia a te che ti sposti così a musto proprio. Sembra un turbo ascensore. Potrebbe essere l'uscita. Dai, ponte. Dai, ponte. Dai, punticello. Ok. Egli c'è il save, ragazzi. Buono pochino. Ci avviciniamo. Ehi, BD1. Ma perché devi sca... Grazie di essere mio amico. Ma hai visto nulla di simile. Avanzato anche per l'impero. Devi sempre scansionare tutto, tu. BD1. Dai, ma era arrivato. Ma c'era arrivato, eh. Li hanno spezzati, sconfitti e convertiti al lato oscuro. Quindi questi sono tutti i Jedi? Ok. Allora, siamo qua. Adesso lo mando... Guarda di qua. Chiusa. Puoi fare qualcosa? Eh? Camera degli interrogatori. Vai, trilla. C'è sta mossa, mo? C'è sta mossa, mo? Qui, amico. Dai. D'amma a metà. Eh, vabbè. Ci mancava pure questa. A me, vabbè. Ci mancava. Eh, vabbè, poi. Saresti tornato per questo. Niente grazie. Non riuscirai mai a fuggire da qui vivo. Ah, non lo me l'aspettavo il secondo tiro. Aiutami, BD1. Vai, 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 vai. Ok Dai cavolo sei quasi andata Trilla Cal Ho preso l'olocron Adesso tocca a me È finita Trilla Ti illudi se credi che sia finita Questa battaglia è finita Conosco l'oscurità che ti dibora dall'interno E so che ogni giorno possiamo scegliere se alimentarla o combatterla È troppo tardi Sir No Ti sbagli So che a causa delle mie scelte Tu non hai più avuto scelta Trilla E so di averti delusa Io ti ho delusa E non sai quanto mi dispiace Ti ho odiata con tutta me stessa Ho un brutto presentimento Anch'io È lui Mi hai deluso inquisitore Vendicateci No 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 Faresti meglio ad arrenderti Sì Può darsi No 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 Porco cane Wow No 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 Ok Il sinistro signor oscuro Darth Vader Porco cane, proprio lui ci dobbiamo trovare davanti Ho preso l'holocron, mamma, Sire, non ce l'ha fatta, Gris Consegnami l'holocron Te lo puoi scordare Lo vedremo Non ti lascerò prendere quei bambini Quanto odio Saresti stata eccellente come inquisitore Lei è molto più forte Sì È forte È un lato oscuro Sì Lo percepisco dentro di lei Sì Sì Ascoltami Hai ancora una scelta Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cosa? Abbiamo... Fabiano. Loro dove sono? Sono tutti di là. Ehi, aspetta, dove stai andando? Scusa. Eri tu quella nell'acqua, vero? Per fortuna stai bene. Lui ti è stato sempre accanto. Grazie. Ehi. Ehi. Ora che si fa? Vai, capitano. Il mio viaggio finisce qui. E il tuo contratto è concluso. Grazie, Gris. Beh, se per voi fa lo stesso, pensavo di trattenermi ancora un po' da queste parti e di portarvi dove volete. E poi il ragazzo si è affezionato a me. Che ne facciamo? Lo usiamo. Per rifondare l'ordine Jedi. La nuova generazione di Jedi. L'impero darà loro la caccia. Saranno prede come noi. La vita di ogni bambino su quella lista sarà stravolta per sempre. Non da noi. Non da noi. Il loro destino sarà affidato alla forza. E ora dove si va? Fidati solo della forza. Uuuuuh, regà, che finale! E abbiamo concluso. Star Wars Jedi Fallen Order. Io mi auguro che facciano qualche DLC per farci affrontare anche le altre sorelle dell'Inquisizione. Perché abbiamo affrontato solo la seconda e la nona. Quindi presumo che ce ne siano altre. In ballo. Però non so. Io adesso farò andare avanti i titoli di coda con la speranza che ci siano qualche scena extra. Molto bene, ragazzi. Io direi che abbiamo concluso la nostra galattica avventura qui nelle vicende di Star Wars Jedi Fallen Order. Io vi ringrazio a tutti voi che avete seguito con me questa serie. Mi sono divertito da matti. Mi è piaciuta. Che dire? Io mi auguro che facciano qualcosa per ampliare un po' la storia. Cioè, per allargarla. Che so. Anche perché affrontare seconda sorella e nona sorella, diciamo che è poco. Cioè, vorrei affrontare qualche inquisitore in più. Giusto per capire anche le altre sorelle a sto punto. Chi siano. Fatemi sapere voi, invece, se anche voi la pensate come me. E se vi siete divertiti, vi è piaciuta. E da quale lato vi schierate della forza. Lato chiaro, lato scuro. O magari, magari lato grigio. E niente, raga. Io vi ringrazio ancora una volta. Non so quando uscirà questo video. Ma in caso vi faccio i miei più sentiti auguri per queste feste. Vi auguro un felice Natale e un 2020 che sia un inizio. 2020 che sia più roseo del 2019. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli!